Oltre 27.000 automezzi e 32.000 persone controllate, più di 1.200 contravvenzioni, 114 denunce, 157 veicoli sequestrati e 24 arresti. Sono i numeri di una vasta operazione antiterrorismo della Polizia che ha visto impegnati 3.500 agenti al giorno dal 29 al 30 agosto. Tutte le province italiane sono state coinvolte nell'operazione coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Polizia di Stato in linea con le direttive del Ministero dell'Interno a seguito del recente attentato terroristico di Barcellona. Obiettivo il controllo degli automezzi per trasporto collettivo di persone e dei mezzi pesanti che facevano ingresso nei centri storici delle città. I reparti prevenzione crimine, le volanti delle questure e dei commissariati hanno intensificato i posti di controllo, identificato i conducenti attraverso le banche dati delle forze di polizia, compresa quella Schengen.